Vi porgo il mio benvenuto a Bala Raffon, visto che siamo nella dimensione X. Ricordatevi che questo video, questa recensione, la dividerò in due parti. Questa è la prima parte che stiamo facendo. Allora, concentriamoci. Voglio spiegarvi bene le cose. Siamo nella dimensione X e i nemici da affrontare sono questi guerrieri di pietra. Ma bisogna stare attenti perché, essendo fatti di pietra, sono fortissimi. E poi non dimenticate che io ho cambiato personaggio giocabile. E indovinate chi sto usando? Raffaello. La tartaruga che si arrabbia sempre. È sempre arrabbiato Raffaello e poi è acceato dall'ira. Ci sono guerrieri di pietra, arancioni e azzurri. Non dimenticate che nella dimensione X si fa la conoscenza dei neutrini Dusk, Kala e Zack. Vi voglio dire una cosa. Vi voglio dire che in questo livello c'è da affrontare il sub-boss che non sapremo mai chi è. Poi ritornano i robot walker. Non so se siamo nel tecnodromo. Poi ritornano i noiosissimi soldati ninja neri con i Sai. Avere i Sai fa ricordare Milena di Mortal Kombat. Ecco, guardate che si fa ora. Si scende con l'ascensore. E quando si scende con l'ascensore ci sono i guerrieri di pietra, gli Stone Warriors. Non ci mollano. Ecco il sub-boss. Si scende con l'ascensore da affrontare in questo livello. Indovinate chi è? È il generale Thrag. Bisogna eliminarlo. Così concludiamo la prima parte del livello. E vai, eliminato il generale Thrag. Io vi saluto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace.